Ben trovati alla terza edizione del TG6, apriamo con la cronaca giudiziaria, nuova udienza questa mattina in tribunale all'Aquila per il processo Grandi Rischi Bis. Si avvicina sempre di più la prescrizione. Daniela Rosone. Nessuna prescrizione ma la rinuncia ad ascoltare i testimoni tra questi molti giornalisti. È la trovata del legale di Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile Filippo Di Nacci, definito un colpo di teatro dai parenti delle vittime del terremoto. E così il rischio prescrizione, il limite lo ricordiamo il 6 ottobre, è davvero dietro l'angolo. E questo mi sembra un colpo di teatro che ora getta il cerino nelle mani del giudice, ma mi sembra un colpo di teatro come quelli fatti perché l'Avvocato Di Nacci difende anche, ha difeso grossi personaggi della politica italiana, da Berlusconi per il caso Rubbi e quant'altro. Mi sembrano tanto un colpo di teatro per dire che da una parte si rinuncia a determinate cose, quindi ad ascoltare i propri testi. Non si rinuncia alla prescrizione e questo è grave perché dopo che Bertolaso l'ha annunciato a tutta Italia è grave che non avvenga la rinuncia. Stamattina all'udienza della Grandi Rischi Bis, che vede imputato l'allora numero uno della protezione civile Guido Bertolaso, che non si è mai presentato in aula, c'era anche Franco Barberi, che allora faceva parte della commissione Grandi Rischi. Il giudice Grieco non ha accettato la proposta dell'Avvocato Di Nacci, che ha addirittura parlato di una proposta fatta per lealtà e trasparenza ed ha rimandato le udienze nei prossimi 27 e 30 settembre. Ed è stato riaperto al traffico il tratto vastese dell'A14, dove questa mattina intorno alle 10.40 un camion che trasportava Pomodori si è ribaltato in curva perdendo il carico che ha invaso la sede stradale. Il lavoro di ripristino dell'arteria stradale ha permesso inizialmente di riaprire al traffico il tratto verso nord e successivamente quello verso sud. Il sinistro si è verificato al chilometro 449 nel territorio di Vasto. Sul posto il personale di autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Il mezzo pesante dopo aver smandato ha urtato la barriera a sparti traffico con il rimocchio che ha invaso la careggiata opposta. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto, oltre al personale della direzione 7, tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici. Ed è stata sgominata dai carabinieri della compagnia di Pescara la gang romena che aveva commesso dei furti di rame nell'ex cementificio. Un arresto anche per rapina. Paolo Renzetti. Avevano appena rubato dall'ex cementificio otto quintali di rame. Quando all'uscita hanno trovato ad attenderli i carabinieri che li hanno arrestati per furto. In manette cinque romeni, tutti residenti a Vasto. Sono stati arrestati in flagranza di reato cinque cittadini romeni, autori di un grosso furto di rame all'interno di un cementificio. I cinque hanno scavalcato la recensione e sono entrati all'interno del cementificio. Hanno iniziato a raccogliere del rame, lo hanno ripulito, quindi sgusciato. E dopo diverse ore, dato il quantitativo di quasi 800 kg, si stavano apprestando a metterlo in macchina su una Mercedes per poi portarlo. Erano persone in trasferta. Arrestato la notte scorsa anche un 33enne pugliese che ieri sera aveva rapinato con un complice, poi riuscito a fuggire, un distributore di benzina di cappelle sul tavo. I due, dopo essere stati costretti a lasciare la loro auto, hanno anche provato a chiamare un taxi. Intorno alle 8.30 di sera è stata consumata una rapina da parte di due persone, di cui un'armata con un mitra a questo distributore di benzina. Una pattuglia che transitava sul posto, allertata pochi istanti prima, ha avuto l'intuito di capire che questo furgone, di cui sconoscevamo all'inizio i dati, colore, qualunque elemento, poteva essere sospetto e poteva essere il mezzo utilizzato dai rapinatori. Si è posta all'inseguimento e il mezzo poi ha terminato, poco dopo, fuori strada. I due rapinatori sono scappati quindi nelle campagne. Uno è riuscito a dileguarsi, mentre l'altro, dopo aver cinturato la zona, è stato individuato nel paese. La sua posizione è chiarissima, in quanto gli è stata trovata l'area furtiva, circa 700 euro, 480 euro, aveva addosso e ancora il computer, anche questo portato via durante il colpo. Cumuli di rifiuti speciali e pericolosi depositati ed abbandonati su ettari di terreno e sulle sponde dei corsi d'acqua della provincia teatina sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Chieti. Nel corso di una vasta e prolungata attività di indagine, i finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Chieti hanno sottoposto a sequestro diverse discariche abusive a cielo aperto, alcune delle quali prossime a corsi d'acqua, denunciando all'autorità giudiziaria dieci soggetti per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in violazione della normativa ambientale, sanzionando due persone per violazione alla norma relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Durante l'operazione sono state individuate dieci zone pericolose, ovvero aree, che si estendono per oltre 500 mila metri quadrati ed alcuni capannoni dove senza alcuna autorizzazione o precauzione venivano stoccati oltre 400 veicoli in evidente stato di abbandono, privi di targa, motori e parti meccaniche, mille pneumatici, materiale plastico in genere, elettrodomestici, batterie esauste, pezzi di motore impregnati d'olio e parti di essi. Sono stati inoltre trovati in diverse aree circa 500 metri quadrati di lastre di Eternit, pronte per essere smaltite in totale violazione delle normative vigenti. La polizia aquilana sta indagando su un presunto ricatto a luci rosse in cui sarebbe coinvolto un giovanissimo aquilano. Giorgio Alessandri. Anche un diciassettenne aquilano stava per finire nella trappola delle foto hard su internet. Il giovane non ha però ceduto al ricatto e ora il caso è al vaglio della procura della Repubblica dell'Aquila. Il giovane è stato contattato sui social dalla donna alla quale ha inviato una foto. L'amicizia virtuale è andata avanti fino a quando la giovane gli ha chiesto un'altra foto, questa volta a sfondo pornografico e facendo cadere il minorenne nel raggiro. La ragazza gli ha infatti chiesto 200 euro da accreditare su una carta telefonica prepagata intestata ad un'altra persona altrimenti la sua foto sarebbe finita in rete. Il minorenne ha allora preso coraggio e si è recato alla procura della Repubblica dove ha raccontato la sua esperienza. Le indagini sono state affidate alla sezione di polizia giudiziaria della questura diretta da Mauro Panzini. La ragazza sarebbe già stata identificata e sarebbe originaria della provincia di Napoli, mentre non è ancora stato rintracciato il mancato beneficiario della carta telefonica prepagata che ha agito di concerto con la sospettata. Pare che si tratti di una persona straniera. Intanto è stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di tentata estorsione e la rete dei giovanissimi coinvolti in questa torbida vicenda potrebbe allargarsi dopo gli approfondimenti degli inquirenti. È di origine aquilane ma ha lavorato per lungo tempo in Emilia Romagna. Roberta Cicchetti, il nuovo dirigente della squadra mobile di Teramo, succede a Gennaro Capasso, oggi alla guida della mobile di L'Aquila. Alfredo Primante. Spero di dare il meglio e di mettermi completamente a disposizione della questura. È un rientro che mi fa molto piacere, sì. Sono queste le prime parole da dirigente della squadra mobile della questura di Teramo di Roberta Cicchetti, appena subentrata a Gennaro Capasso, dopo 15 anni passato alla direzione della mobile di L'Aquila. Di origine aquilane, sposate con una bimba, il nuovo dirigente della mobile teramana in polizia dal 2008, ma ha già accumulato importanti esperienze professionali. A Parma ha diretto l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e l'ufficio immigrazione, mentre dal 2013 è stata in forza la squadra mobile della questura di Bologna. Darò sicuramente il mio contributo sotto il profilo della sicurezza. Sono abruzzese, conosco la città di Teramo e metterò a disposizione della città e dei cittadini della città di Teramo le mie competenze professionali, maturate nel corso degli ultimi sei anni, gli ultimi quattro dei quali trascorsi alla squadra mobile della questura di Bologna, dove ho lavorato alla sezione crimine diffuso, alla sezione criminalità straniera e prostituzione e alla sezione di contrasto al crimine organizzato. La presentazione del nuovo dirigente è stata l'occasione per il questore di Teramo Enrico De Simone di fare il punto sulla stagione estiva appena trascorsa e tracciare le linee dell'attività di prevenzione e repressione del crimine dei prossimi mesi. A questo proposito a breve ci sarà l'incontro tra Capasso e Cicchetti per concretizzare il passaggio delle consegne e un vertice con la Procura della Repubblica e il nuovo capo della mobile. Il bilancio è più che positivo e speriamo di continuare così, soprattutto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio a mezzo della volante e dei servizi incrementati nella zona nord della costa hanno debellato numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, di traffico di materiale contraffatto. Abbiamo fatto anche, come voi ben sapete, dei recuperi di refurtiva, tra cui quello famoso delle biciclette scoprendo un deposito dove erano già pronte per essere spedite all'estero. Adesso con la stagione invernale ricomincerà sicuramente a incrementarsi la prostituzione nella zona del litorale, ma non di meno controlleremo il controllo del territorio proprio sulla città, ma ripeto, sicuramente la costa con la prostituzione e quindi migrazione clandestina è sempre chiaramente il discorso degli stupefacenti che si sposterà dalla costa all'interno degli appartamenti. E cambio al vertice del reparto operativo del comando provinciale di Pescara dell'Arma, il tenente colonnello Gaetano Larocca, il nuovo comandante. 39 anni, nativo di Salerno, prende il posto del tenente colonnello Giovanni Di Niso, destinato ad altro incarico a Firenze. Dal 2001 al 2002 la Rocca ha ricoperto l'incarico di comandante della prima compagnia dell'undicesimo battaglione carabinieri Puglia di Bari. Dal 2002 al 2005 è stato comandante del nord della compagnia di Cosenza e successivamente, fino alla 2008, ha comandato il nucleo carabinieri di Campione d'Italia, Como. Dal 2008 al 2013 ha comandato la compagnia di Sciacca, da Grigento, e poi quella di Lecco, fino agli inizi di settembre di quest'anno. Sono molto contento della nuova destinazione, assumo con entusiasmo questo nuovo incarico, ha detto il neocomandante Larocca, che metterò a disposizione dei militari al fine di proporre il miglior prodotto possibile nell'interesse della città di Pescara e della sua provincia. E cambiamo argomento, è stato necessario l'intervento della sovrintendenza per far sedere allo stesso tavolo amministrazione comunale, ambientalisti e tecnici per il caso dell'abbattimento degli alberi di Pescara. Francesco Romalatesti. C'era attesa per il tavolo tecnico convocato dalla sovrintendenza sulla questione alberi di Pescara. Ambientalisti, amministrazione comunale, tecnici ed esperti si sono confrontati per mettere in chiaro le polemiche in corso. Prima di fare un'operazione, in questo caso esiziale, cioè l'abbattimento delle piante, si fa l'approfondimento strumentale, come andata dal medico, e prima di fare un'operazione al cervello uno fa l'attacco. Poi, se la forestale sarà d'accordo, invierà i propri tecnici, che insieme con questo tavolo continueranno a lavorare e, ripeto, a fare gli approfondimenti strumentali. Si faranno a queste piante delle prove a trazione, delle tomografie, cioè si faranno proprio degli studi ulteriori per capire quelle che possono magari rimanere, essere controllate nei prossimi anni, e invece quelle che effettivamente anche da un'analisi strumentale vengono da abbattere. A parlare oggi ci sono anche gli agronomi forestali, che, stemperate le polemiche, ci tengono a chiarire più di un punto al contestato lavoro di uno dei loro rappresentanti, quello contro cui, più di una volta, hanno rivolto critiche gli ambientalisti. In condizioni come queste, in cui sono presenti rivoltamenti delle ceppaie, oppure presenza di patogeni o stroncature da neve o da piogge intense, comunque sia, non fanno altro che supportare la relazione del nostro iscritto, a lui è stata commissionata una visuale speditiva e non una strumentale. La visuale speditiva vede tutto nell'ottica del cittadino, della città, dei pericoli. La strumentale è nell'ottica dell'albero e che si fa più che altro non in un'alberatura, ma si può fare in un parco pubblico con alberi di una certa consistenza, dove non c'è pericolo imminente. Quindi quella di Rabbottini è stata una relazione ampiamente valida. Presentati oggi a Pescara dal vicepresidente della regione Giovanni Lolli, nuovi bandi del Ministero per lo sviluppo economico e per la ricerca. Una opportunità per le imprese abruzzesi. Vediamo. È un bando che tra l'altro è a Sportello, è già aperto, scadrà il 17 di ottobre. Oggi è il primo giorno che viene presentato, noi siamo la prima regione in cui questo bando si presenta. E noi ci auguriamo, ci aspettiamo, lavoreremo perché le aziende abruzzesi con le università, con il sistema dell'istituto di ricerca, partecipino e assorbono molta parte di queste risorse. La ricerca è la chiave fondamentale delle industrie del futuro. Le industrie che stanno andando bene in Abruzzo, accanto purtroppo a tante che non vanno bene, ma ce ne sono anche molte che vanno bene, che reggono il mercato, stanno sui mercati internazionali, sono soprattutto le aziende che di più hanno scommesso sull'innovazione e di più hanno fatto ricerca e di più hanno lavorato in rete con le nostre università o con gli altri istituti. Questa è la chiave fondamentale e quindi questo bando dà una grande spita. Noi vorrei ricordare, naturalmente, abbiamo già investito molte risorse nostre, dei fondi strutturali 713 sulla ricerca e oggi qui spiegheremo, investiremo con il nuovo FESD e altre iniziative sulla ricerca. Certo non ci sovrapponiamo a questa, in modo che offriamo alle aziende un panel, un ventaglio di possibilità diverse. Presidente Ballone, nuovi bandi per i fondi destinati alle imprese abruzzesi, si tratta di una grande opportunità. Sì, sono degli assi che sono stati predisposti, che hanno come finalità quello di stimolare ulteriormente gli investimenti, sono bandi che noi come Confindustria sollecitiamo nella emanazione perché registriamo qualche ritardo, ma credo che stamattina verranno fuori soluzioni operative dirette. Combattere le sovrapposizioni delle tratte del trasporto pubblico locale, l'azienda di trasporto unico TUA dopo l'avvio dell'anno scolastico prosegue l'opera di riduzione dei costi e di riordino territoriale. Vediamo. Prosegue il piano di riordino dell'azienda di trasporto unico abruzzese, prosegue anche il piano di contenimento costi. Se le manovre messe in campo nell'ultimo anno hanno prodotto il risultato sperato, non è ancora conclusa la lista delle voci da ridurre. Prosegue infatti la conta delle sovrapposizioni e la pianificazione di nuove combinazioni per ovviare i chilometri doppione. Ovviamente l'impegno dell'azienda è che i tagli non vadano ad impattare sui servizi offerti ai cittadini. Questo significa eliminare le sovrapposizioni o eliminare anche le parziali sovrapposizioni. Molto spesso due corse nascono da località diverse e hanno un unico luogo di destinazione e magari si intersecano per strada. Il nostro obiettivo è fare in modo che una sola di quelle corse arrivi a destinazione assumendo il carico dei passeggeri dell'altra corsa. L'avvio delle scuole poi ha avuto un capitolo dedicato, se si pensa che in molti casi i flussi di studenti abbiano subito modifiche, vuoi per implementazione o per diminuzione. In molti casi si è reso necessario l'aumento delle corse. Registriamo in questi giorni, in alcuni per fortuna casi isolati, delle difficoltà. Lì dove ci sono difficoltà, per essere chiari, autobus che viaggiano in sovraccarico, stiamo predisponendo corse e bis per fare in modo che tutti gli studenti possano arrivare a scuola in condizioni assolutamente di comodità. Quest'anno abbiamo avuto solo come luogo di destinazione le scuole di Atri, un incremento di ben 250 studenti che lo scorso anno frequentavano altri istituti. Naturalmente poter sopperire a questo significa lavorare nei primissimi giorni della riapertura. Come abbiamo fatto, io credo che anche queste criticità, credo di poter dire, sono state tutte pienamente superate. L'azienda di trasporto unica locale nella settimana europea della mobilità ha presentato la nuova app dedicata all'acquisto di titoli di viaggio a portata appunto di smartphone, una novità che aiuterà anche a combattere il fenomeno dell'evasione. Un'app per viaggiare sempre muniti di biglietto e calcolare percorsi, cambi e anche le aree di sosta, tutto in un click di smartphone. Si chiama MyCicero ed è un servizio gratuito a disposizione degli utenti. A presentarlo oggi è l'azienda di trasporto unificata tua che invita ad una prova gratuita il prossimo 22 settembre in occasione della settimana europea della mobilità. Tutti i biglietti emessi in quella giornata dall'app daranno diritto a mobilità gratuita. MyCicero è stata pensata per garantire da un lato la praticità di acquisto dei titoli di viaggio e dall'altra per ridurre il fenomeno dell'evasione. Sarà sufficiente indicare il luogo di partenza e destinazione per trovare tutte le combinazioni a disposizione dell'utente integrate dalle tratte effettuate dai mezzi di TPL. Dalla sezione biglietteria si potrà procedere all'acquisto con pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o di rimando presso le ricevitorie SISALPAY. Sarà possibile procedere anche al rinnovo di abbonamenti mediante il proprio codice. Per obliterare il biglietto sarà sufficiente premere il tasto attiva, operazione che andrà compiuta prima di salire sul mezzo, poiché sarà a disposizione del controllore, una clessidra che indica da quanto tempo sia stata effettuata l'operazione per ovviare così al fenomeno dell'evasione da parte di chi volesse procedere solo in presenza di personale sull'autobus. L'applicazione è in uso anche presso Trenitalia, così da fondere insieme corse che necessitano di entrambi i mezzi. Il costo dei biglietti tramite app sarà il medesimo di quello effettuato tramite i punti vendita. E tra gli appuntamenti, grazie al contributo della Teramo Ambiente, sono salvi i concerti d'organo della Primo di Citelli. Al via il 22 settembre la 32esima edizione del festival con i London Brands. In chiusura. Qual è il programma della 32esima edizione dei concerti d'organo? Quest'anno i concerti d'organo prevedono, il festival prevede 4 concerti, 4 appuntamenti, tutti nella nostra cattedrale a Teramo alle ore 21. Sarà il maestro Meyer il 20 settembre che inizierà, aprirà questo festival. Poi il 22 ci sarà il maestro Zareschi dalla Russia, dalla filarmonica di Leningrado, in questo caso San Pietroburgo. E il 27 il maestro Eugenio Maria Faggiani, italiano, organista titolare del festival e dell'organo anche del Santuario della Verna. E poi chiuderà il festival il maestro Johansen, anche lui della Germania, che è organista titolare della chiesa madre della città di Stoccarda in Germania. Sono 4 organisti di livello internazionale molto importanti e sono molto contento di averli qui quest'anno in questa 32esima edizione che non si svolgerà come negli altri anni passate edizioni al mese di giugno e al mese di settembre. Quest'anno devo dire che sono molto contento perché il festival sembrava che per mancanza di fondi, purtroppo non si potesse più fare dopo tantissime edizioni. Invece poi il festival si è potuto fare quest'anno nel mese di settembre grazie al contributo della Team. Io volevo quindi ringraziare la Team come azienda per aver voluto sostenere questo progetto culturale molto importante per la città di Teramo, che era veramente un peccato se quest'anno non si poteva realizzare. E volevo quindi ringraziare e augurandomi anche che questo possa essere uno sprone per il futuro, anche per altre aziende e enti privati che vogliano investire nella cultura nella nostra città. E passiamo alla pagina sportiva. Crescenzi, Aquilani e Fornasier sono le tre novità di formazione annunciate oggi dalla tecnico del Pescara Massimo Oddo in vista della gara di domani sera col Torino. Prenderanno il posto di Zampano, Brugman e Ghiomber, ancora assenti Coda e Baebek, oltre che il difensore slovacco. Oddo si è anche soffermato su un'ulteriore analisi della sconfitta con la Lazio. Lo ascoltiamo. Abbiamo perso una partita contro una Lazio che è una squadra forte e che se tu non sei brillante ci sta pure che ti mette sotto. La cosa invece che non vorrei che più accadesse è quello di non perdere la testa. Semmai, nel senso che in Serie A abbiamo visto che ci sono partite in cui tu magari fai bene e rischi magari che in un'azione prendi un gol. In quelle circostanze tu devi continuare a fare quello che hai fatto prima, rischi di magari di subire il momento di negatività dovuto magari all'andare sotto di un gol. in quei momenti devi avere la testa, la lucidità, la freddezza di ricompattarti, riunirti per poi riprendere a fare quello che sai fare. Quello è quello che mi aspetto da questa squadra, che è il percorso di maturazione che deve fare e che ci sarà sicuramente. Zuparic sta facendo un'ecografia, giusto? Se l'ecografia è negativa noi abbiamo tre centrali, fra una settimana recuperiamo coda e non abbiamo bisogno di nulla. Se mi si fanno male tre centrali in una settimana qualcosa dobbiamo fare, come abbiamo fatto l'anno scorso con Diamutene. Allora domani giocherà Crescenzi, Aquilani e Fornasia, gli altri sono gli stessi. Credo, sono convinto anzi, che il Torino sia una delle squadre meglio costruite quest'anno. Ha avuto qualche problemino perché ha perso giocatori importanti, indubbiamente ha perso giocatori importanti come Giacci, come Belotti, anche dietro mi sembra Molinaro, insomma, quindi qualche difficoltà ce l'ha. Però è una squadra, a mio avviso, è una di quelle squadre che io inserivo tra le prime 6-7, cioè che poteva arrivare certamente lì, ad organico completo. L'organico completo in questo momento non ci è, neanche noi, e quindi andiamo in campo come al solito per cercare di fare bene, di divertirci. Torino in emergenza offensiva, Out Lopet e Lijic, convocato Belotti che non è al massimo e partirà dalla panchina. Dal primo minuto spazio ancora il giovane centravanti argentino, Boyer fuori causa Molinaro, al suo posto Barreca è favorito su Moretti. Senza gli Aici e i Bellotti è come che togliessero a Juve di Higuain e di Balla. Dover rinunciare a entrambi insieme per paredecchie partite per noi è un problema. Noi il turnover lo facciamo perché magari ci sono alcuni giocatori che non giocano da tanto tempo e che non si possono permettere, non possono fare tre partite in una settimana perché è un turnover forzato, come prima cosa. Come seconda cosa sicuramente Pescara è una buona squadra che gioca molto bene, sicuramente in casa si trasformano ancora di più. Come sempre andiamo là a cercare di fare la nostra partita e provare a vincere. Dobbiamo fare una grande fase difensiva senza sbavature, concentrazione come abbiamo fatto e poi ci cocedono anche le occasioni dei gol e dobbiamo essere bravi a sfruttarli. Sicuramente non li dobbiamo sottovalutare e non dobbiamo pensare che siamo più forti di loro perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Bellotti adesso aspettiamo gli esami, è tornato ieri con il gruppo, se va tutto bene penso di portarlo in panchina. Bojè deve giocare per forza, anche perché non abbiamo nessun altro, ma anche perché ha 20 anni. E oggi e domani scendiamo in Lega Pro, oggi e domani doppia seduta per il Teramo. La società è pronta a tornare sul mercato per reperire un difensore esterno dopo l'infortunio occorso a Carcalis. La partita Teramo-Fano, prevista per sabato alle 20.30, sarà diretta da Andreini di Forlì. Nel servizio ascoltiamo il centrocampista Danilo Bulevardi. Era una vittoria che ci poteva dare morale, ci poteva dare tanto, eravamo magari più carichi, però va bene dai. Ci sta il calcio anche questo. Purtroppo può capitare pure di pigliare gol agli ultimi minuti, però non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo magari continuare come abbiamo fatto sabato. Allora, al primo tempo abbiamo giocato a due, al secondo tempo poi mi siamo spostato alla sinistra. Con l'ingresso di Carraro la squadra è migliorata, perché si vede che Carraro è un giocatore fondamentale per noi. C'è tanta qualità, poi lì in mezzo al campo fa la differenza. Sì, mi sono trovato bene, solo che magari da esterno, che non ho giocato spesso lì. Mi è capitato questa, sa che è la prima volta che gioco lì esterno a sinistra. Quindi magari mi sono allontanato un po' dalla partita, però poi mi sta cambiato, ha messo al tre, mi ha messo a mezzata sinistra e la mezzata è il mio ruolo, quindi mi piace giocare lì. Quindi mi trovo molto bene lì, anche con Carraro lì in mezzo mi trovo molto bene. Le sensazioni sono più che positive. Il gruppo penso abbia risposto bene sabato, ha seguito quello che ha detto il mister. Credo che abbiamo delle giuste motivazioni adesso, magari in più, perché anche sabato, non so se avete visto pure voi, che abbiamo avuto una reazione, abbiamo fatto, sotto l'aspetto magari caratteriale, abbiamo dimostrato di più delle altre partite. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.